Innanzitutto ricordiamo che questa serata è per voi grazie anche agli sponsor che sono il Consorzio Prosa, idrotermica TR di Ranalli Daniele Tribotti Andimo, De Luca Eliano, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, tutto l'addobbo dei fiori è fornito da EMI, piante e fiori, glastermic, impianti idrotermosanitari e centro studi immobiliare, grazie a loro è stato possibile organizzare questa serata. Iniziamo allora con le categorie inferiori, quindi vado a presentarvi i giovanissimi, o meglio lo staff tecnico delle giovanili. Ricordiamo che quest'anno c'è una nuovissima novità, scusate il gioco di parole, c'è una dottoressa, una psicologa, la dottoressa Virginia Maloni che si occuperà naturalmente per quanto riguarda l'aspetto mentale, morale dei ragazzi che faranno naturalmente a loro riferimento, a lei riferimento. Partiamo con l'allenatore dei primi calci, confermatissimo Matteo Coccia e allenerà i ragazzi dal 2003 al 2006, quindi allenatore, primi calci, Matteo Coccia. E tutti i ragazzini degli anni dal 2003 al 2006, eccoli qua i ragazzini dei primi calci, naturalmente andiamo a conoscere... Questi sembrano un po' più grandicelli però, non credo siano i primi calci. Allora, vediamo subito questa categoria, credo sia una categoria un po' più grande, non siete i primi calci. Infatti vedo arrivare allenatore Salvatore Fusco, infatti questi sono i juniors, giusto Salvatore? Una parte di juniors e una parte di allievi. Una parte di juniors e una parte di allievi, comunque con Salvatore Fusco, ex giocatore dell'Ascoli. Andiamo a leggere i nomi di alcuni allievi e magari chi chiamo può fare un passo avanti. Reginelli Devin, portiere, eccolo qui. Di Pasquale Andrea, difensore. Alilai Donald, centrocampista. Giannone Francesco, altro centrocampista. Armilei Federico, attaccante. E poi ci sono altri giovani perché come ben sapete sulle ali dell'entusiasmo oggi è stata una vera e propria corsa al tesseramento. Io farò un giro, una carrellata per sapere almeno il nome e cognome e magari il ruolo che ricoprono questi ragazzi. Partiamo qui da sinistra verso destra. Nome e cognome e ruolo. Bollettine Alessio, portiere. Bene. Lei Fabio, difensore. Bracchetti Lallardo, terzino. Giallo Cagliaffoni, difensore. Stefano Andrilli, difensore. Andrea Aprile, difensore. Il Matteo Vittori, difensore. Santarelli Albino, difensore. Giannone Levin, portiere. Donald Aliroa, centrocampista. Di Pasquale Andrea, difensore. Millai Federico, attaccante. Il Bomber. Politi Paolo, difensore. Lorenzo Ippoliti, difensore. Luca Ippoliti, centrocampista. Otti Stefano, difensore. C'è solo un attaccante? No, c'è qualche altro attaccante credo. perché ci sono moltissimi centrocampisti e difensori. Non vedo gli attaccanti. Qui ci sono altri due ragazzi. Balucci Lorenzo Dercini. Lenghini Maicon, difensore. E abbiamo anche il mister Torino Pica, allenatore dei Pulcini. Una gratissima, gratissima conoscenza del calcio di Mitrofo. Buonasera mister. Ciao a tutti. Allora, allenerai Pulcini, quindi abbiamo sentito che c'è stata una vera e propria corsa al tesseramento sulle ali dell'entusiasmo che si è scatenato intorno a questa società, anche grazie alla vittoria ottenuta in Coppa Italia, quindi avrà un bel da fare mister. Speriamo di farne ancora di più. Inizierà quindi questa avventura con la Sant'Egidiese e naturalmente in bocca al lupo. Ok, il lupo ha diversi anni questo qui. È un veterano allora di Sant'Egidio. Salvatore Fusco, ex giocatore dell'Ascoli, vecchia conoscenza del calcio marchigiano e bianconero, anche tu avrai un grande affare con questi ragazzi. Non so se già avete fatto sicuramente la preparazione e come ti sembrano questi ragazzi dal punto di vista atletico e come rispondono naturalmente ai tuoi dettami, ai tuoi schemi, al tuo gioco. Abbiamo iniziato già da lunedì, non siamo proprio al completo, però stiamo cercando di allestire una buona squadra con l'obiettivo di portare più giovani possibili alla prima squadra. E in bocca al lupo anche a te Salvatore, grazie ancora e un calorosissimo applauso a questi giovanissimi allievi e juniors della Sant'Egidiese, società sportiva dilettantistica 1948. Ancora grazie ragazzi. E naturalmente potete lasciare il palco oppure li lasciamo qui perché continuiamo con la carrellata dei calciatori. abbiamo anche le categorie inferiori, non so se mi fanno cenno di poter far entrare le categorie inferiori. Ok, facciamo rimanere i ragazzi, intanto possiamo chiamare le categorie inferiori. esordienti e giovanissimi, andiamo con la prima squadra allora. Perfetto, andiamo subito con la presentazione della prima squadra. Eccoci qua dunque, il meglio della Sant'Egidiese calcio per la stagione 2011-2012, come detto campionato Serie D, Girone F, l'anno scorso si è piazzata a sesta al campionato 2010-2011. Presentiamo dunque la prima squadra partendo dai portieri, Fabio Palmieri, proveniente dalla San Giustese, classe 1992. Eccolo qui, un bel applauso a Fabio Palmieri. Ciao Fabio. Proseguiamo con l'altro portiere, Mirko Ciccanti, proveniente dall'Ascoli, classe 1993. Ecco Mirko, non è potuto essere presente Andrea Zenga, proveniente dalla San Benedettese, anche lui in classe 93. Un applauso anche a lui, anche se non è presente. Comunque compone il trio dei portieri. Passiamo ai difensori, Matteo Patti, dalla Casertana, classe 1984. Ciao Matteo. Andiamo con l'altro difensore, Marco Brandozzi, dalla Juniors della San Giustese, promosso in prima squadra, classe 1993. Alla battaglia vai, alla battaglia vai. Proseguiamo con i difensori, Stefano Bizzarri, confermato dalla San Egidiese, classe 1991. Ti seguiremo, ora e sempre, vogliamo vincere. Ancora un difensore, Andrea Banaiuti, proveniente dall'Udinese, classe 1992. 1992. Proseguiamo con Matteo Coccia, dalla Primavera del Bari, classe 1990. e per finire, la carrellata dei difensori, Gabriele Difino, proveniente dall'Andria, classe 1993. Passiamo ora, ai centrocampisti. Una vecchia conoscenza, del calcio, ex giocatore dell'Ascoli, proveniente dalla Pistoiese, Alessandro Alex Monticciolo, classe 76. Dario Casali, confermato dalla San Egidiese, classe 81. Non è potuto essere presente con noi, un applauso anche a lui, a Dario Casali. Salvatore Rizzi, confermato dalla San Egidiese, classe 1984. Ciao Sassà! Fabio Di Polito, dal Morro d'Oro, classe 1990. Edoardo Edo Montanari, dalla San Giustese, classe 1992. dalla Civitanovese, Massimo Palma, classe 92. Stefano Petrucci, dalla Juniores, della San Egidiese, classe 93. Arlind Ferhati, del 1994, proveniente da Montreal, ha effettuato un provino con Parma Juniores. Eccolo qui, altro centrocampista, 94. Lorenzo Fanini, un vero e proprio giocatore di San Egidio, la vibrata, classe 94. Eccolo qui, Lorenzo Fanini. E per finire, il gruppo dei centrocampisti, il capitano, Stefano, Andrea, scusate, Andrea Censori, capitano confermatissimo, dalla San Egidiese, classe 1988. e passiamo ora al gruppo degli attaccanti, con un'altra vecchia conoscenza del calcio bianconero dell'Ascoli, ex Civitanovese, Giorgio, Giorgino, la vista, classe 79. Anche lui, con Alex Monticcio, esordito quest'oggi, con un bel gol, nel 3-0 contro il Luco Canistro. Proseguiamo con Giorgio Galli, proveniente dall'Aquila, un classe 1980, altro attaccante. Dalle 100 buchi, 1991, Anthony Carioti. Diego Allegretti, dalla San Giustese, l'Asse 1992. E terminiamo con Marco Casali, confermato dalla San Egidiese, classe 87, ma purtroppo non è potuto essere qui con noi. Ed è il momento adesso di presentarvi lo staff tecnico della San Egidiese Calcio, della San Egidiese Calcio. Allora, eccoli, questi sono appunto sia le giovani promesse, gli unionesi allievi, e naturalmente la prima squadra della San Egidiese Calcio, 1948, che si accinge a tagliare i nastri di partenza di questo difficilissimo e lunghissimo campionato di serie di girone F. bisognerà assolutamente far meglio dell'anno scorso. Questa squadra l'anno scorso si è piazzata a sesta in campionato, e naturalmente un grandissimo in bocca al lupo, affinché quest'anno questi ragazzi possano fare di più, possano fare ancora meglio. Grazie ancora, un altro applauso per tutti loro. Bene, passiamo allora allo staff tecnico. Come detto, quest'anno c'è una novità con la dottoressa, la psicologa, la dottoressa Virginia Maloni. Sta arrivando, mi dicono che comunque sta arrivando. Attenderemo anche la dottoressa per sentire anche le sue impressioni, perché appunto c'è bisogno di una psicologa in una società di calcio. Ascolteremo le sue parole. E passiamo al team manager dello staff tecnico della Santa Egidiese, Annunzio Amatucci. Eccolo qui, il team manager Annunzio Amatucci. preparatore atletico della squadra Attilio Alfonsi. Eccoli qua entrambi, sia la dottoressa, buonasera dottoressa, e naturalmente buonasera anche al preparatore atletico Attilio Alfonsi. E prima di procedere con il preparatore e dei portieri, allenatori, eccetera, eccetera, io mi chiedevo perché c'è bisogno di una psicologa in una società di calcio? Beh, questa sicuramente è una novità, come già detto prima. Loro hanno bisogno di un supporto, non chiaramente per problemi mentali, spero, ma hanno bisogno di essere sostenuti per quest'anno, per fare le cose in maniera migliore, e soprattutto per rendere lo sport una disciplina importante. Quindi lei sarà un punto di riferimento soprattutto per... In bocca al lupo, ragazzi, eh! E quindi lei, la dottoressa, sarà il vostro punto di riferimento per quanto riguarda tutto ciò che vorrete chiedere e spiegare, avere spiegazioni appunto dalla dottoressa. Proseguiamo, come detto, con il preparatore dei portieri Egidio Iachini. Buonasera, allenatore in seconda, Giuseppe Ferretti. Buonasera, e adesso è il momento del preparatore dei portieri in seconda, Aquilanti. responsabile area tecnica Alessandro Cesaroni. Buonasera, passiamo con... posiamo con il mister oppure andiamo con il mister e io chiedo un attimo di suspense per annunciare il mister e anche qui siamo veramente ad altissimi livelli. Ex giocatore dell'Ascoli ha portato l'Ascoli come capitano in Serie B dalla Serie C. Ha esordito con il Centro Buchi, allenatore mister Gaetano Jimmy Fontana. Buonasera, mister. Eccoci qua, ora iniziamo questa avventura con la Sant'Egidiese è un'avventura che sembra comunque essere iniziata già con il piede giusto un 3-0 in Coppa Italia contro il Luco Canistro non è cosa da tutti i giorni. No, è stato sicuramente tanto la pagheranno è stato sicuramente un inizio fantastico però vorrei fare un passettino indietro rispetto all'inizio della stagione ufficiale che prevedeva la gara di oggi. In settimane è venuto a mancare un ragazzo che ha fatto parte del settore giovanile della Sant'Egidiese e ci è stato negato anche oggi per questioni logistiche e temporane anche la possibilità di fare un minuto di raccoglimento e quindi dedicare un minuto alla famiglia di Jacopo per cui se siete d'accordo lo farei oggi. Perdonate il filo di commozione ma quando si perde una vita così giovane dispiace sempre e poi dispiace anche rovinare una serata di festa come questa quindi passiamo ad altro avete visto che c'è una squadra che sicuramente l'entusiasmo non manca e spero che la possano mantenere per tutta la durata del campionato. Doveroso naturalmente vista le sue bellissime parole nei confronti di Jacopo il ragazzo scomparso tragicamente in un incidente stradale si va avanti si va avanti e come detto oggi ha iniziato ufficialmente la stagione agonistica della Santa Edinese un bel risultato in Coppa Italia un 3 a 0 l'anno scorso questa società è riuscita a portare questa squadra è riuscita ad arrivare il sesto in campionato naturalmente gli obiettivi saranno quelli di migliorare si dice così però insomma effettivamente l'obiettivo primario di questa squadra quale sarà? Quello di migliorare possibilmente? Migliorare migliorare che vuol dire puntare sulle proprie risorse personali ho un grande potenziale umano perché si tratta di ragazzi stupendi devo ringraziarli tutti perché chi per una regione per un'altra hanno accettato questa sfida con il sottoscritto sicuramente non è stato fatto un discorso economico perché non sono venuti qui per arricchirsi tra l'altro ci sono giocatori che hanno calcato campionate e terreni importanti e se sono venuti qua l'hanno fatto perché vogliono puntare sulle proprie risorse per cercare di ritornare ad essere degli atleti professionisti e dare una mano anche ai giovani che sono capaci di arrivare a proprio scienzi più importanti sicuramente questo è il nostro impegno il calcio italiano oggi sta girando verso una direzione che non piace dove l'atleta in prima persona non è più considerato un fine ma un mezzo per raggiungere obiettivi noi ci stiamo posti un altro tipo di obiettivo che è quello di crescere crescere dal punto di vista strutturale morale e portare avanti quei valori che fanno parte dello sport perché ultimamente le vicende sono arcinote si sono copersi ma noi vogliamo ripartire da quello e allora grazie mister e in bocca al lupo per la nuova stagione già che bussa alle porte iniziata quest'oggi con una bella vittoria contro il lupo canistro in Coppa Italia e passiamo adesso alla società la società naturalmente senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile partiamo con il medico sociale della società che non c'è comunque lo ricordiamo il medico sociale è Luigi Nerla per quanto riguarda invece l'organizzazione dello stadio Angelo Abballe ti grideremo sempre forza si occuperà dell'organizzazione e del tutto ciò che riguarda appunto lo stadio magazziniere Alberto Cerase e dall'Italia conosciuta sei arriverà anche Alberto Voice stadio Giovanni Testardi la voce che ascolterete allo stadio sarà quella di Giovanni Testardi anche lui insieme ad Alberto Cerase arriverà non preoccupatevi sarà qui sul palco insieme a tutti gli altri fotografo ufficiale Alberto Stupini ed è in piazza è lì in mezzo a voi che naturalmente ci sta riprendendo una bella foto grazie Alberto cameraman ufficiale Luciano Zucconi anche lui è lì dietro al service che sta riprendendo tutta la serata ciao Luciano addetto stampa della Santa Egidiese Carlo Temperilli Chiriaco eccolo qui l'addetto stampa di questa società addetto alle public relations pubbliche relazioni Francesco Cianciarelli eccolo qui pubbliche relazioni Francesco Cianciarelli segretario generale colui che farà che dà trade union con la Juniors e con tutte le altre società segretario generale responsabile degli allievi del settore giovanile Pierluigi più ad avanti due parole da parte scusate le spalle due parole da parte sia del segretario generale buonasera signor Fioramanti e sia dell'addetto alle pubbliche relazioni Francesco Cianciarelli cominciamo con lei che abbiamo presentato per primo e ricoprirà questo ruolo un ruolo molto importante perché insomma curare le public relations non è semplice in una società di serie D ci saranno moltissime cose da fare non è semplice però per me veramente è un grandissimo piacere perché innanzitutto sono ibratiani ma poi devo dire in onore al vero che questo è veramente il tempio del pallone perché è vero che l'associazione è nata ufficialmente nel 1948 ma in onore al vero già finita la prima guerra mondiale si sono create le basi perché proprio nel Sant'Egidiese c'è il DNA del calcio tant'è che negli anni 30 nemmeno negli anni 30 si crearono qui tutte le basi per le partite rionali successivamente Sant'Egidio si è battuto sempre contro le grandi città le grandi realtà ne ricordiamo alcune Teramo Ancona Giesi Tolentino e guarda caso dopo 80 anni ci ritroviamo quest'anno a combattere nuovamente queste grandi realtà almeno in quanto a numero di abitanti e non in quanto a qualità ma detto ciò è la cittadina della Val di Prat del 12 di Val di Prat che effettivamente detiene più serie D in tutte le epoche tant'è vero che addirittura 40 anni fa tu ne sai qualcosa che sei espertissimo nel 71 arriviamo la prima volta con la serie D poi nel 79 nell'88 nel 2006 e adesso nel 2011 quindi sicuramente quest'anno noi faremo cose grandi cose greggie e desidero naturalmente ringraziare tutto lo staff dirigenziale perché naturalmente ha fatto grandi cose la stampa che ci sta vicino ci sta accanto e quindi fa da cassa di risonanza i giocatori che saranno gli undici crociati sul terreno ma senza l'aiuto del dodicesimo giocatore cioè del pubblico sarebbe impensabile vince quindi quindi un urlo per la Santa Genese grazie ciao grazie ancora Cinciarelli brevissimo perché andiamo subito di fretta il segretario generale Pierluigi Fioravanti colui che appunto ho detto farà da tre di un on anche con il settore giovanile perché sarà anche il responsabile del settore giovanile con questi ragazzi come li vede il futuro in Sant'Egidio speriamo bene poi dopo tutta la storia che ha detto il professore ci sta poco da dire speriamo in loro e buona fortuna è un vanto comunque essere e far parte di questa società ormai è da tempo che sto con loro è un buon la mia famiglia bene grazie in bocca al lupo anche a voi proseguiamo con il direttore generale Ennio Cerase un bel applauso al direttore generale il DG della Santa Egidiese e per ultimo ma non perché meno importante anzi tutt'altro l'amministratore delegato che chiamo insieme anche a Giancarlo Oresti direttore commerciale dei Simbiosi Marketing e il presidente della banca dell'Adriatico dottor Gian Domenico Di Sante dicevo l'amministratore delegato e direttore della comunicazione Leonardo Di Polito ti grideremo sempre forza San Sant'Egidiese Ale eccoci qua anche con Giancarlo Oresti direttore commerciale di Simbiosi Marketing per quanto riguarda il marketing la pubblicità e la comunicazione e naturalmente il presidente della banca dell'Adriatico il dottor Gian Domenico Di Sante che comunque tra breve avremo qui insieme con noi sul palco allora Leonardo un ruolo molto importante il tuo e tra l'altro ti sei adoperato tantissimo ho saputo per organizzare tutto questo popò di roba ti sei dato un grande affare ma comunque far parte di questa famiglia come diceva il professore è sicuramente un vanto per te e per la città di Sant'Egidio buonasera a tutti per me è un onore e un orgoglio rappresentare quest'oggi questa società una società che naturalmente non inizia oggi è una società che inizia da un signore che sta in mezzo a voi nel bene e nel male Camillo Fanini e per il quale io chiedo un grosso applauso perché nel bene e nel male ha fatto sempre giocare questa società allora questo signore ripeto con tutti i sei e con i ma è riuscito sempre a farci vedere una squadra in questo comunale va a lui il grado più alto di riconoscimento che è quello di presidente onorario e prego se può e se vuole venire sul palco e stare in mezzo ai propri ragazzi per il resto per il resto questa questa manifestazione non nasce solo da me dicevo perché dietro a questo lavoro c'è un'agenzia l'agenzia Vertigo è il nome del suo leader il suo titolare che è Lino Pontuti per il quale anche va un applauso perché credetemi non è facilissimo organizzare una serata come questa è quello che vi attende ancora perché questa è soltanto la presentazione di una squadra io volevo ringraziare e ringrazierò alla fine di questo campionato tutti coloro che vorranno darci una mano e mi preme mi preme veramente l'obbligo di ringraziare queste due persone che stanno con me sul palco una persona veramente disinteressata una persona che ama questa terra questa zona pur non essendo vibratriano ma che comunque rimane resterà sempre legato è un personaggio veramente alto alto non tanto per quello che rappresenta ma alto altissimo nei valori di quello che lui pensa di quello che lui rappresenta ma soprattutto di quello che quello che fa mi riferisco al presidente della banca dell'Adriatico dottor Di Sante Gian Domenico un applauso una persona sempre a me vicina una persona che ha sempre credetemi aiutato e aiutato tutte le cose buone che si possono fare in questa in questa terra vicino a me vicino a me c'è anche una persona che conosco da tantissimo tempo una persona che rappresenta la simbiosi simbiosi marketing con il quale lui qui presente abbiamo fatto tantissime cose e abbiamo fatto grande anche un'altra squadra a noi nel cuore che sta nel cuore che è l'asco di calcio la famosa squadra che tutti quanti riconoscono come diabolici e molti di quei personaggi sono qui quest'anno per far bene con noi però adesso è inutile parlare perché la serata è molto lunga chiedo di far parlare ecco dovrà dirci due parole questa persona che sta a fianco a me che è il dottor Gian Domenico Di Sante io dico che l'ingegnere rischia di farmi arrossire pur essendo abituato in una qualche misura a trovarmi in mezzo a situazioni similari dico che è una serata splendida perché io penso che se queste energie vive che noi vediamo qui a fianco a noi si riuscissero a utilizzare nel mondo dello sport che è un mondo alto per i valori che esprime ma anche nella società civile io credo che davvero avremmo risolti tanti problemi tra quelli che noi viviamo ogni giorno e che abbiamo soprattutto davanti a noi io sono orgoglioso di poter portare una testimonianza di amicizia e di vicinanza a San Degidio alla Vibrata in modo particolare alla direzione a tutti coloro che sono impegnati nel mondo dello sport io credo che lo sport condenga oggi un messaggio davvero riassuntivo perché vuol coniugare i sacrifici l'eccellenza la capacità di competere nella lealtà e con grande generosità senza finalità fortemente finanziarie oppure economiche quindi è una lezione di vita che oggi noi traiamo da questi giovani campioni che perseguono l'eccellenza per poter essere il punto di riferimento di un'intera area di un comune così nobile una città così nobile come San Degidio alla Vibrata io dico che Banca dell'Adriatico che ho l'onore di presidere da molti anni a cominciare da Banca Abruzzese Marchigiana Banca di Teramo è vicina al mondo dello sport e vicino soprattutto ai valori che esprime lo sport perché nella vita di oggi in questo momento di grande difficoltà bisogna imparare a difendersi a smistare le varie opportunità ad attaccare con intelligenza con lealtà con generosità con grande capacità di sacrificio e di competere nella lealtà bene rallegramenti per questa magnifica manifestazione auguri auguri alla città di San Degidio auguri al mondo dello sport buonasera a tutti ci siamo incontrati quest'estate con Leonardo a cena abbiamo iniziato subito a parlare di calcio e come ha detto a ricordare le belle esperienze passate con l'ascoli calcio ho detto guarda io adesso sono entrato nella San Degidiese perché non facciamo qualcosa noi abbiamo raccolto subito l'appello c'è Fontana c'è Alessandro Cesaroni c'è Monticciolo c'è Giorgino Lavista io non mi sono fatto pregare e nel giro di qualche giorno abbiamo buttato giù un progetto un progetto che si chiama San Degidio 100% San Degidiese 100% questo è un progetto che toccherà questa città questa vallata a 360 gradi noi coinvolgeremo coinvolgeremo gli imprenditori perché sono una parte importante di questa città coinvolgeremo i tifosi ovviamente coinvolgeremo le scuole coinvolgeremo i ragazzi e poi ci avremo qualche sorpresa che sveleremo durante l'anno noi presenteremo questo progetto San Degidiese 100% in primis agli imprenditori prima della prima partita in casa quindi vorremmo tutti gli imprenditori a raccolta e lì spiegheremo il nostro progetto un progetto ripeto che toccherà forse per la prima volta questa questa vallata e questa città a 360 gradi e poi mi auguro di ritrovarci qui l'anno prossimo sempre in questa piazza a parlare forse di questo progetto ma con un pizzico di ambizione in più grazie prima di concludere io e il mister abbiamo dobbiamo svelare una cosa c'è chi parte da meno 7 da meno 6 noi partiamo da più 7 perché 7 sono i punti che il più guerriero qua in mezzo ha ricevuto sul naso che è stato Alessandro Monticciolo vieni qua vieni questo rappresenta lo spirito di questa squadra fatta a immagine e somiglianza del mister Fontana tenacità e molta forza questo signore ha avuto 7 punti in un amichevole sul naso però ti è andato bene ed è stato è ripartito con la macchina si è andato a mettere i punti lontano da qua però ecco questo deve essere lo spirito della squadra che dici tu che sei uno dei più esperti ma io innanzitutto anno scorso stavo smettendo di giocare e sono arrivato qua è toscano sono arrivato qua ho trovato il mister che mi ha chiamato quindi lo ringrazio ringrazio il presidente però soprattutto ringrazio i miei compagni di squadra che per me sono come una famiglia quindi il fatto viene tutto da lì se stiamo bene in famiglia viene tutto il resto grazie e buonasera abbiamo finito ci tenevo a precisare ci tenevo a precisare che dopo tanti anni e questo vi chiedo un applauso veramente di cuore perché se lo merita il capitano è di Sant'Egidio e si chiama Andrea Censori e vinceremo ebbene eccoci dunque volgendo al termine io naturalmente devo ricordare anche tutti gli altri allenatori abbiamo chiamato sul palco Torino Pica Matteo Coccia e la psicologa la dottoressa Virginia Maloni ma ci sono anche Carino Di Vito Antonio allenatore degli esordienti dei ragazzi dal 1999 al 2000 allenatore giovanissimi Roberto Tarquini dei ragazzi dal 97 al 98 e confermatissimo dell'allenatore degli allievi Luigi Benigni per i ragazzi dal 95 al 96 questi ragazzi sono gli attuali campioni di categoria con il confermato allenatore Luigi Benigni è una società una squadra deve essere sopportata anche dal comune perché no e per questo motivo che chiamo sul palco l'assessore allo sport Michele Maloni un grande applauso gloria e onore attendiamo l'arrivo perché come ho detto il comune deve sostenere e supportare la società la squadra della propria cittadina del proprio paese e in attesa che arrivi l'assessore voglio ricordarvi anche le iscrizioni come vedete anche in quello striscione appeso proprio sul balcone del comune primi calci pulcini esordienti e giovanissimi la scuola calcio per i ragazzi da 5 a 16 anni iscrizioni si tengono presso la sede delle giovanili adiacente lo stadio comunale da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 tutti gli istruttori ricordiamo sono tecnici abilitati figgici e sono in possesso di tesserino della federazione italiana gioco calcio buonasera assessore come detto il comune deve supportare il cammino di una squadra di calcio della società ecco quali sono quindi le prorogative del comune in tal senso buonasera a tutti l'amministrazione sarà sempre vicina a tutto lo sport la promozione dello sport tra cui il calcio io colgo l'occasione per fare un auguro di buon lavoro alla nuova dirigenza della Santa Egidiese un grosso in bocca al lupo al mister Fontana e ai ragazzi per una stagione sportiva ricca di grosse soddisfazioni quindi in bocca al lupo che va agli atleti di vertice senza dimenticare la base che è il settore giovanile questo è fondamentale perché quando lo sport si rivolge alle fasce giovanili e svolge la sua primaria funzione che è quella di essere modello comportamentale modello educativo questo è fondamentale per lo sviluppo di una sana cultura sportiva e in questo sicuramente la dirigenza della Santa Egidiese sarà essere maestra buonasera la ringraziamo la ringraziamo l'assessore allo sport Michele Maloni e concludiamo questa serata con il saluto e naturalmente ricordandovi per l'ultima volta gli sponsor della serata grazie appunto a loro è stato possibile organizzare tutto questo vi ricordo brevemente Consorzio Prosa idrotermica TR di Ranalli Daniele e Tribotti Andimo De Luca Eliano tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche tutto l'adobbo dei fiori è fornito da EMI piante e fiori glass thermic impianti idrotermosanitari e centro studi immobiliare con questo è davvero tutto io spero di essere stato all'altezza di questa serata ringrazio voi per la cordialità e naturalmente un calorosissimo buon proseguimento di serata e l'augurio alla Santa Egidese Calcio di un buon campionato in bocca al luogo ragazzi di un buon campionato